Spia Avaria Airbag L'Airbag è sicuramente uno dei più utili dal momento che svolge la funzione di ridurre ogni tipo di lesione fisica dovuta all'urto, attraverso un sistema che dopo lo schianto, automaticamente gonfia un palloncino che attutisce il danno al conducente. Cos'è l'Airbag e come funziona? L'Airbag è un dispositivo di sicurezza che ha lo scopo di ridurre al minimo i danni da incidente stradale e si trova sia all'interno del volante, ma anche all'interno del cruscotto e negli sportelli laterali. L'Airbag quindi, non è altro che un grosso pallone pieno d'aria che gonfiandosi attutisce l'impatto tra passeggero e strutture interne all'abitacolo. La progressiva innovazione e modernizzazione delle auto in questi ultimi anni, sta portando vetture dotate di sistemi di sicurezza. Sempre più efficaci ed efficienti e questo nella maggior parte dei casi si traduce in veicoli con un numero di Airbag maggiori rispetto a quelli che invece erano presenti nei modelli precedenti. Per conoscere l'esatta posizione degli Airbag, sarà sufficiente consultare il manuale che viene consegnato all'acquirente dal concessionario. Spia avaria Airbag accesa e fissa, perché succede? Nel caso di un cattivo o mancato funzionamento dell'Airbag, avaria, si dovrebbe accendere sul quadro strumenti una spia rossa fissa. Questa spia, che segnala un malfunzionamento del sistema di sicurezza, ha la tipica forma dell'Airbag ossia di un palloncino gonfio d'aria. Potrebbe capitare che a seguito di un incidente non troppo violento o di un urto lieve, si accenda la spia dall'Airbag. Nonostante ciò, se la spia Airbag è accesa fissa è consigliabile portare l'auto dal meccanico, che effettuerà un controllo diretto sul veicolo e ripristinerà l'intero sistema di sicurezza, così da spegnere la spia rossa. Ricorda comunque che la spia dell'Airbag potrebbe essere accesa anche per cause secondarie come un malfunzionamento delle cinture di sicurezza. In ultimo, segnaliamo che esiste anche un'altra causa che giustificherebbe l'accensione anomala della spia Airbag, ossia la sostituzione dei sedili, del cruscotto o degli impianti. In questo caso sarà necessario controllare il montaggio di queste componenti per verificare che tutto sia stato fatto correttamente senza errori. Spia Airbag passeggero, come funziona? Per ciò che riguarda i sistemi di sicurezza del passeggero, esiste la possibilità di disattivarli attraverso un comando che si trova nel cruscotto. Il comando permette infatti di disattivare l'Airbag portando la levetta sulla posizione OFF, e in caso contrario si può attivare girando il comando sulla posizione ON. Quindi, la spia dell'Airbag passeggero sarà accesa e fissa quando il sistema è impostato su OFF e sarà spenta invece quando il sistema è impostato su ON. Ricordiamo inoltre che gli airbag laterali non si attivano in caso di ribaltamento ma sono necessari adeguati valori di decelerazione. Nonostante ciò sulle vetture più recenti è stato implementato un sistema di sensori che lavorano a pressione e che sono in grado di Rilevare le deformazioni dovute ad urti e pesi eccessivi, anche quando il valore di decelerazione è basso. Spia Airbag accesa Come fare il reset? Nel caso in cui la spia dell'avaria dell'Airbag sia accesa senza però aver avuto alcuna precedente collisione, si definisce tale quando L'auto che compie l'urto a una velocità superiore ai 25 km orari, è possibile effettuare il reset del sistema di sicurezza autonomamente, così da spegnere la spia. Ecco come fare, girare la chiave nel quadro, senza però accendere il veicolo. In questo modo la spia sarà accesa per circa 7 secondi, una volta che la spia si spegne, sarà necessario girare immediatamente la chiave nella posizione OFF con conseguente spegnimento del quadro. Fatto questo, attendere circa 3 secondi per ripetere il processo, che dovrà essere fatto con le stesse modalità per altre 3 volte, una volta conclusa la terza volta, si dovrà girare la chiave in posizione ON del quadro strumenti, in questo modo andremo a ripristinare il quadro e ad accendere il motore. Se l'operazione è stata fatta correttamente, e l'Airbag non presenta malfunzionamenti, la spia rossa dovrebbe accendersi solo per qualche secondo per poi spegnersi definitivamente. Nel caso in cui invece questa procedura non dovesse dare i risultati sperati, sarà necessario resettare la centralina. In merito a questo esistono persone che suggeriscono di staccare la batteria, ma si consiglia comunque di procedere seguendo le istruzioni presenti sul libretto della vettura oppure di rivolgersi al concessionario.